È ufficiale ragazzi! Questa sera si torna in live! Non vi preoccupate, non vi preoccupate, l'episogno 23 è già in lavorazione. Tuttavia, dopo un anno di pausa, si può tornare a fare due chiacchiere insieme, a fare cose, a giocare, a vedere gente, no, di vedere gente no, però a chiacchierare sì, molto volentieri. Quindi, vi aspetto dalle 21. Trovate il link in descrizione o nei commenti. E se ci siete, sarete ovviamente tutti benvenuti, ci spacchiamo un po' di tier list, o 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 tier list. Ulalala, puoi andare a fare le tier list della mer, avec le bonfalon della Tour Eiffel, i bambini che gridano fuori dalla finestra, va! Vi aspetto in live, a più tardi, ciao ciao! Grazie a tutti!